Al mio risveglio mi sono spaventato perché ho visto gli alberi fuori piegati, probabilmente c'è vento forte. Luca è preoccupato a causa del molto vento di oggi. Grazie per la visione! Mamma mia, oggi c'è un vento molto forte, guardate! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Nel primo filmato si vede in modo chiaro il dentice da catturare. Mi sembrava facile da catturare e pensavo sicuramente lo colpirà. Invece Luca ha mirato troppo alto, con il pendolo nella parte alta della testa, si è strappata la carne del pesce. Nel secondo filmato, qui il pesce, qui il pesce, qui il pesce gli andava contro e il colpo era facile, ma invece lui ha sbagliato. Nell'ultimo filmato, si vede come l'ultimo filmato, si vede come l'ultimo, si vede come ha paura di sbagliare ancora, infatti poteva sperare molto prima, ma ha aspettato fino all'ultimo. Riuscendo però nell'ultimo filmato, sono contento perché ha fatto una nuova esperienza, catturando un dentice. Luca non ti offendere, in questa occasione ti do come voto 6. La prossima volta proseguiamo il corso con la seconda lezione. Ci vediamo, ciao! Ciao! Sono pazzo? No! È normale, per tre giorni abbiamo saltato pranzo. E ora recuperiamo. In più, facciamo festa! Un brindisi per il mio dentice! Buon appetito! Ciao! Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti.